Ieri sera c'è stata questa assemblea pubblica a Città Sant'Angelo per ribadire da parte vostra le ragioni del no al biodigestore anerobico di Piano di Sacco di Città Sant'Angelo. Perché questa posizione contraria? Sì, siamo molto contenti della partecipazione delle persone e noi come gruppo consigliare Partito Democratico abbiamo contestato fin da subito il metodo con il quale si è giunti alla localizzazione di questo impianto a Piano di Sacco. Si è deciso di far scegliere ai privati e per noi per un impianto di questo tipo è inaccettabile. Chiediamo che la localizzazione sia ripensata e rivalutata a livello provinciale perché si deve scegliere e si deve giungere alla giusta localizzazione dell'impianto nell'area metropolitana della provincia di Pescara. Voi chiedete anche un'interlocuzione con l'amministrazione comunale, lo avete già fatto? Noi l'abbiamo chiesta, le risposte non sono state aperte, sono state anche spesso molto contrastate e perché no chiederemo anche un'interlocuzione con il prossimo presidente di Ambiente in maniera tale che per chiedere a lui che ci sia un ripensamento su questo progetto. Anche Sinistra Italiana è contraria a questo progetto? Sì, siamo contrari alla localizzazione di questo progetto, ovvero a Piano di Sacco, un'area che non è idonea ad ospitare un impianto del genere, un impianto che andrebbe a trattare la parte organica di tutti i rifiuti dei comuni facente parte di Ambiente, quindi anche il comune di Pescara, il comune di Montesilvano, il comune di Spoltore per citare solo quelli più grandi. Quindi non è idonea ad ospitare un impianto di 60.000 tonnellate, un'area che invece la sua destinazione è quella agricola, quella che è adesso, cioè un'area di pregio dove in passato è stata anche riconosciuta un'osi faunistica, fa parte del distretto rurale Terrevestine dalle Saline al Gran Sasso, del contratto di fiume Tavo fino Saline, quindi tutto tranne che un'area industriale. Grazie a tutti.